Promuovere i valori della lealtà e della sportività anche fuori dal campo. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto ai membri e dirigenti dell'American Pro Football Hall of Fame incontrati in Vaticano prima dell'udienza generale. Dopo aver ricordato la sua passione per il football, il Pontefice ha poi sottolineato che soprattutto i giovani hanno bisogno di modelli per far emergere il meglio di loro stessi, per mettere a frutto i talenti donati dal Signore. Il lavoro di squadra, il gioco leale e il tendere al meglio sono valori, nel senso anche religioso dal termine, che guidano il vostro impegno sul campo di gioco. Tuttavia di questi valori c'è urgente bisogno anche fuori dal campo, in tutte le dimensioni della vita comunitaria. Sono i valori che aiutano a costruire una cultura dell'incontro nella quale preveniamo e soccorriamo le necessità dei nostri fratelli e sorelle e combattiamo l'esagerato individualismo, l'indifferenza e l'ingiustizia che ci impediscono di vivere come una sola famiglia umana. Quanto ha bisogno il mondo di questa cultura dell'incontro? Quanto ha bisogno il mondo di questa cultura dell'incontro? Quanto ha bisogno il mondo di questa cultura dell'incontro? Quanto ha bisogno il mondo di questa cultura dell'incontro? Grazie a tutti